Le Olimpiadi costituiscono l'aspirazione di ogni sportivo, parteciparvi è naturalmente una ambizione. Vincenzo Guerini, ospite di Zona Mista Magazine, ha partecipato a due Olimpiadi, quelle di Monaco 1972 e Montreal 1976. Che ricordo è rimasto di quella esperienza? Innanzitutto si dice sempre che è un sogno, ma in effetti io non le ho mai sognate le Olimpiadi. Ci sono arrivato tardi, avevo 18 anni quando ho iniziato a fare attività sportiva, a fare atletica, e a 20 anni ero in nazionale. Quindi è stato tutto un susseguirsi di situazioni che mi hanno portato alle Olimpiadi. È stato un percorso non facile, ma così era già a fosse predisposto. E io ci sono arrivato con la calma più grande possibile, da azzurro ovviamente, e quindi sono arrivato a Monaco. E lì a Monaco mi sono fatto una bella domanda, fuori dallo stadio, quando dovevamo entrare, tutta la delegazione entrava nello stadio di Monaco per la sfilata. E lì mi sono fatto una domanda e mi sono detto, ma cosa faccio io qui? Un ragazzo, figlio di Fornaio, della Val Seriana. Cioè era come fosse miracolato. Ecco, una fortuna inaspettata, anche se a dieci anni vincevo le Olimpiadi a Vertua. I 50 metri nel 60 più dieci anni. Vincenzo Quirini, un velocista che ha corso in staffetta con Pietro Mennea, si è freggiato anche di un titolo italiano nella velocità. La gara ovviamente più sentita è quella dei 100 metri, la medaglia più ambita. Medaglie non ne sono arrivate, però è rimasto lo spirito olimpico. Eh sì, quando ho detto prima, sono arrivato alle Olimpiadi, erano già un paio d'anni che ero azzurro, però non avevo nella mente, nel mio essere, quello spirito che mi ha dato l'Olimpiadi. Quel senso di sentirmi profondamente italiano, quasi fossi un ambasciatore. Arrivato all'Olimpiadi, all'Olimpiadi mi sono sentito bene, bene, completo. Mi dava un altro target, perché mettere la maglia azzurra, che ho scritto Italia qui, era quasi diventato un metodo di vita. Ma a Monaco la stessa maglia aveva un altro sapore, mi sentivo più completo, più determinato e poi non avevo paura, ecco perché è una competizione che ti mette grande paura, grande apprensione da non dormirci la notte, ma io lì sono arrivato sicuro. E proprio quando si dice la calma olimpica io penso di averla centrata in pieno. Insieme a Vincenzo Guerini, un altro atleta, Gianfranco Paraldi, mezzofondista, ha partecipato a due Olimpiadi. C'è un altro atleta, Emmanuel Iemeie, che disputerà la gara del triplo per la seconda volta, a distanza di tre anni, perché le Olimpiadi di Tokyo si sono svolte con un anno di ritardo a causa pandemia. Ritornarci cosa significa? Beh, ritornarci non è la stessa Olimpiade. Io ci sono arrivato quattro anni dopo a Montreal e praticamente ero sposato da poco, avevo, aspettavamo una figlia. Era un altro mondo, ma ero molto più concreto, però le sensazioni non erano più le stesse. Anche perché venivamo dall'attentato di Monaco, in cui i fedalini hanno fatto strage, degli israeliani, per cui abbiamo trovato un villaggio olimpico blindato e quindi eravamo consapevoli che ci poteva essere del pericolo, anche se eravamo anche sicuri. Però è stata un'Olimpiadi più trivolata. Sapevo che era la mia ultima Olimpiade, perché oramai qualche acciacco ai tendini si faceva sentire, ma avevo la stessa determinazione, la stessa forza. Quella forza che io ho maturato sin da bambino, quando lavoravo nel forno con mio papà, e tutti gli amici sempre in giro a far casino, nel pomeriggio. Ecco, mi sentivo sempre un uomo libero. Questa è forse la parola più giusta. Questa è la parola più giusta.